Ambroggio Sparagna, il primo giugno a Torre del Greco, una prima nazionale con Corpo d'Amore. Sì, un progetto originale che abbiamo pensato per questo evento unico nel suo genere, dedicato alla tradizione italiana dei canti popolari che hanno come tema la devozione del Corpus Domini. Nella cultura popolare italiana c'è una fortissima presenza di azioni devozionali che raccontano il bisogno di avere il corpo di Cristo come qualcosa, fra virgolette, di materiale, di poter toccarlo. E questo si esprime anche nella ricchezza di un patrimonio di canti che ha un'origine antica, che nasce con San Francesco, poi nel Cinquecento prende corpo con San Filippo Neri, fino alla tradizione di Sant'Alfonso nel Settecento, ma tutto questo però dentro un racconto che viene espresso anche con una narrazione che utilizza anche la danza, perché il corpo che celebra e questo rapporto con il sacro, il corpo umano, che diventa una sorta di mediazione con questa necessaria esperienza di sacralità. E ci sarà una presenza significativa di una compagnia di danza contemporanea, diretta da Mula Sungani, che racconterà questo nostro desiderio di avere questo rapporto con il sacro come segno d'amore, amore assoluto. Si preannuncia dunque una serata ricca di suggestioni. Beh, sicuramente è una serata unica. Poi devo dire che anche in questo contesto, che è un po' surreale, parlare del valore sacro, assoluto della vita, dentro un contesto di archeologia industriale un po' dismessa, un po', come dicevo, surreale, che può sicuramente creare un cortocircuito nell'attenzione. Ed è bene ha fatto la direzione del Festival a pensare a questo luogo come un luogo adatto per raccontare il bisogno d'amore che abbiamo, che abbiamo tutti e che è qualcosa che ha un valore assoluto di cui dobbiamo fare sicuramente tesoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.